Mizzolette gigante che cioccolari stava scopo! Chi? Chi? Cioccolari stava scopo! Ma che che mio signore è peristoso curioso! Sì! Sì! Peristoso curioso! Combattiva è mio signore! Peristoso curioso! Ma che partiva? Mettermane fatti ei! Chi? Chi? Mettermane fatti ei! Ma sicuro che l'ho fatto! Sol perdare questo a lei! Sì! Sì! Sol perdare questo a lei! Ma sicuro che l'ho! Sol perdare questo a lei! Settecento successo! Non voglio che sentiamo preso! Chi? Cari successo! Ma doncina perdonate! Ma forse va rinteso così! Sì! Si! Ma forse va rinteso! Nicolette! Compattire! Ma pazienza! Ma doncina! Nicolette! Ma pazienza! Ma pazienza! Ma pazienza! Chi? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.